La quiete dopo la tempesta, quella che sta scivolando via, è stata una domenica particolare per l'Avellino, la prima con una nuova guida tecnica a distanza di tre anni e dopo una settimana intensissima, iniziata con l'intesa sulla parola tra il presidente Walter Tacone e Massimo Rastelli per il rinnovo del contratto che era in scadenza nel 2016, proseguita con la telefonata allo stesso Rastelli da parte del Cagliari, arrivata nella tarda serata di lunedì, per fissare un colloquio tenutosi poi nella mattinata seguente, che è stato il principio della fine dell'avventura sulla panchina velenese del trainer Partenopeo. Il resto è storia, con il braccio di ferro per la rescissione, con l'ormai ex tecnico a tenere banco mercoledì e sino al tardo pomeriggio di giovedì, quando è stata trovata l'intesa tra il club Irpino e quello sardo, per l'indenizzo che ha permesso alla società presiduta da Giulini di liberare e presentare Rastelli. Venerdì le ultime firme e l'ufficialità della separazione e ieri è iniziata una nuova era, quella di Attilio Tesser, rappresentato in una cornice di dilagante entusiasmo con i supporters assiepati all'esterno della sala stampa, a tributargli un rumoroso e caloroso benvenuto, il tutto mentre veniva annunciato il quarto colpo di calcio mercato. Dopo il nero su bianco per gli accordi triennali con i difensori Nitrianschi e Biraschi e del portiere Offredi, è stato comunicato nell'ingaggio biennale di un altro importante tassello per la difesa, ovvero Angelo Rea, che sarà presto raggiunto dal terzino sinistro Ghiron, in arrivo dal Chieti. La pagina è stata voltata ora sotto con la costruzione della nuova rosa. L'intenzione è di consegnare entro il prossimo 14 luglio, nella serata del quale si consumerà la partenza alla volta del ritiro di Sturno, a Tesser, un organico pressoché completo. L'intenzione è stata costruzione della nuova rosa,